La Salernitana ha depositato i contratti di Thomas Stracoscia e Gianluca Pollace che arrivano in prestito per la stagione 2015-2016 dalla Lazio che ha comunque mantenuto il diritto di controriscatto. E potrebbe presto arrivare a Salerno anche il 27enne Vincenzo Sarno, esterno molto rapido. Ex-an-fan-prodige Sarno quest'anno a Foggia ha trovato la giusta consacrazione. Intanto Getano Khalil resta uomo mercato della Salernitana. Oltre a Foggia che gli sta facendo una corte serratissima ora c'è anche il Lecce che si è fatto avanti per il brasiliano. Paganese dopo l'esclusione della Lega Pro illegale al lavoro per il ricorso. Intanto emergono in retroscena a determinare l'esclusione della società azzurro stellata. Sono stati soprattutto i voti delle associazioni sindacali, l'asso allenatori e l'asso calciatori, il che può portare anche allo svincolo dei calciatori e alla cessazione del contratto degli altri dipendenti. Sono stati 12 voti contrari alla Paganese, 5 quelli favorevoli, esattamente Gravina, Pitrolo, Abodi, Colonna e Cosentino. In pratica sono stati tre componenti dell'asso calciatori a votare contro, per Rotta, Tommasi e Calcagno, mentre due sono stati voti contrari dell'asso allenatori, quelli di Olivieri e per Domina, Giunta Caridi, Tonelli, Nicchi, Rivera, Berretta, Pozzo e Tisci. Per cui se solo quei cinque voti fossero stati favorevoli la società si sarebbe salvata. La cavese del nuovo patrona Campitello a lavoro. Si costruisce la squadra, si tratta per il neo allenatore che dovrebbe essere lungo, ormai manca solo l'ufficialità. E si sta anche valutando la località in cui portare la rosa che si sta costruendo da qualche giorno. Per la settimana che sta per iniziare è attesa anche una conferenza stampa di presentazione della nuova società. Franco De Lisanti torna a Potenza, allenerà la squadra che è già allenato in passato e con la quale ha vinto anche un campionato. Martedì dovrebbe esserci la firma e sempre Potenza domani incontra anche Mirko Guadalupi. Lavoro assiduo in casa Città di Nocera in vista del debutto al campionato di eccellenza. Si apre un'altra settimana impegnativa sul fronte mercato con nuovi impegni per la costituzione della rosa. E a breve, dopo il successo del primo raduno, dovrebbe essere programmato già un altro. Grazie. Grazie.